Allora, riprendiamo con oggetti e funzioni Un errore che è capitato spesso oggi, da quanto tre o quattro di voi mi hanno detto è relativo a come scrivete length quindi length si scrive l-e-n-g-t-h e non ht o con altre varianti se lo scrivete con altre varianti, JavaScript non vi dà un errore del tipo questa proprietà non esiste ma semplicemente vi calcola cose a caso e per a caso potrebbe uscire nota number o cose del genere quindi o assicuratevi di scriverlo correttamente o comunque usate l'autocompletamento che vi dà la versione correttamente scritta di length L'altra cosa che posso dirvi mentre si torna dalla pausa dopo 25 minuti è che il video della prima lezione non è venuto quindi voi che siete qui avete visto live chi non c'è può chiedermi un'ora e mezza di Mac Parlo su uno schermo bloccato su Chrome dei primi 5 minuti quindi non è molto utile e ogni tanto lo fa speriamo che con un aggiornamento del software di registrazione lo sistemino però non lo fa sempre quindi è difficile beccare il motivo per cui lo fa e non è ancora chiaro per quale motivo capiti però al momento sta registrando e quindi speriamo continui almeno per questa parte più teorica ok oggetti e funzioni allora oggi in questa ultima ora che ci avanza parleremo di queste due cose oggetti e funzioni in questo set di slide ci sono anche le date e la gestione delle date che non riusciremo a guardare oggi quasi sicuramente ma che riprendiamo quindi martedì ma è un qualcosa di veramente di nuovo semplice e molto rapido perché è la gestione di date non è un qualcosa è una libreria esterna che useremo per gestire ore date in javascript partiamo da oggetti quindi la prima cosa da ricordarsi degli oggetti è che non sono come gli oggetti che voi siete probabilmente abituati in altri linguaggi di programmazione per esempio java in javascript javascript non è un linguaggio di programmazione basato su classi ma è un linguaggio di programmazione basato su prototipi questo vuol dire per esempio che esiste una parola chiave che si chiama classe ma in javascript è definito come un syntactical sugar che in italiano è zucchero sintattico non rende bene uguale è semplicemente un modo di dire è un modo diverso di scrivere una cosa che si può fare lo stesso senza utilizzare la parola chiave class è un qualcosa che rende più simile la creazione di una classe a quello che si fa in altri linguaggi di programmazione ma in realtà è un oggetto che si potrebbe costruire anche senza questa parola chiave classe perché appunto in javascript non c'è un'eredità da classi ma si è eredita da prototipi quindi è un concetto un po' diverso per la programmazione oggetti e gli oggetti in javascript tipicamente si creano direttamente al volo senza derivarli da una classe gli oggetti in javascript sono dinamici quindi si possono aggiungere cancellare modificare proprietà e metodi a ogni momento quindi io potrei creare l'equivalente della mia classe domande visto che parlavamo di domande e risposte e fra dopo 50 righe decidere che quella classe ha un metodo in più e deciderlo non andando a modificare l'oggetto a riga 1 ma andando ma semplicemente sono a riga 150 e lì dire che la classe da un momento in poi ha un oggetto in più ha un metodo in più o che quell'oggetto ha un metodo in meno quindi ampio dinamismo nella creazione di metodi e di proprietà allo stesso modo in un qualunque momento e con la caratteristica sulle proprietà che abbiamo già visto con length che se lo scrivete con le lettere sbagliate come vi dicevo prima javascript non vi dà errore dicendo questa proprietà non esiste ma semplicemente cerca di utilizzarla poi non esiste e quindi se lo usate nei conti vi dà nota number vi dà risultati a caso ma non ve lo segna come errore perché una proprietà potrebbe a un certo punto comparire nel programma e quindi non esiste un set finito di proprietà valide sempre in un certo momento inoltre negli oggetti non ci sono metodi di controllo degli accessi quindi tutto è pubblico non esiste un concetto di una variabile privata o di una variabile protetta esistono modi di scrivere il codice di scrivere le variabili per indicare che lo sviluppatore intende quella variabile da utilizzarsi come privatamente però in pratica è pubblica e inoltre non c'è una vera differenza tra le proprietà e i metodi di un oggetto perché come abbiamo detto l'altra volta in javascript tutti gli oggetti tutti gli oggetti e le funzioni sono oggetti quindi una proprietà potrebbe contenere un oggetto un metodo è una funzione che però è un oggetto a sua volta quindi non c'è una vera differenza tra i due se non per il fatto che il metodo tipicamente lo eseguite e la proprietà la leggete o la impostate e non la eseguite cos'è un oggetto un oggetto nella sua forma più semplice è una collezione non ordinata di proprietà e di metodi se uno volesse e ogni proprietà ha un nome e una chiave quindi è simile a quello che in altri linguaggi avete chiamato dizionario e si possono memorizzare valori attraverso il nome della proprietà e un oggetto si può facciamolo qua fatemi creare un object punto javascript un oggetto chiamiamolo movies usiamo un esempio diverso un oggetto si crea con le parentesi graffe e questo è un oggetto vuoto e se un oggetto avesse delle proprietà possiamo indicarle all'interno e parliamo solo di proprietà come il length di prima di nuovo semplicemente come chiave due punti valore quindi film titolo di un film titolo di un altro film titanico visto l'assenza di alternative migliori e genere non è un genere quello quello è l'opinione genere chiamiamolo drama non so se e durata ci serve un numero 120 120 non che io sia in disaccordo però non posso mettere nota number o maxint in questo momento mettiamo 200 180 180 non so se sia però è una durata abbastanza lunga 180 minuti ok rotondiamo a 200 invece che 194 da google ok quindi questo è la creazione di un oggetto e noi possiamo ovviamente stampare l'intero oggetto come abbiamo fatto prima per l'array o stampare una sua proprietà o accede con nome dell'oggetto parentesi quadra e nome della proprietà quindi in questo caso come stringhe quindi in questo caso per esempio title quindi stampando console.log movie vedremmo l'intero film le proprietà titolo genere e durata e stampando movie di title vedremo solo titanic quindi se noi eseguiamo questo vediamo la rappresentazione dell'oggetto come ci viene fornita da javascript in maniera analoga alla rappresentazione dell'array che abbiamo visto prima e poi ovviamente stampando solo la chiave titolo vediamo solo il titolo titanic ok e ricordate ovviamente che in memoria gli oggetti sono puntatori quindi quando copiate point dovete fare poi una copia effettiva non solo un'assegnazione e qui c'è un esempio di definizione analoga all'oggetto ecco gli oggetti si possono dichiarare inizializzare sia come abbiamo fatto noi qui quindi con le chiavi direttamente utilizzate oppure con le chiavi come stringhe le chiavi sono comunque stringhe sono due modi di inizializzarlo una chiave il nome di un oggetto potete scegliere quale dei due preferite ovviamente se nel nome dell'oggetto ci fossero dei caratteri riservati o dei caratteri non permissibili per una variabile in javascript per esempio il spazio titolo che potrebbe essere è una chiave lecita in javascript non può essere scritto senza virgolette perché sarebbe il spazio titolo lo spazio non è un carattere ammissibile ma dovrebbe essere scritto tra le virgolette il titolo e quello è una proprietà ovviamente ammissibile quindi se dovete utilizzare o volete utilizzare caratteri speciali dovete utilizzare la sintassi con le virgolette ci arriviamo quindi i nomi sono le chiavi sono identificate come stringhe devono essere uniche in ogni oggetto e come vi dicevo prima sono create all'iniziazione dell'oggetto possono essere aggiunte dopo l'iniziazione dell'oggetto e possono anche essere cancellate a un certo punto dopo la creazione quindi non è detto che il nostro oggetto titolo durata e genere abbia per sempre titolo durata e genere nel programma a un certo punto potremmo decidere di aggiungere il registra o potremmo decidere di rimuovere una chiave specifica i valori dall'altra parte come abbiamo visto sono valori javascript di qualunque tipo quindi possono essere oggetti primitivi come nel caso dell'esempio su Titanic dove erano stringhe numeri ma possono anche essere oggetti possono anche essere array possono anche essere altri oggetti e ovviamente possono anche essere funzioni per cui quello diventerà un metodo e poi ovviamente c'è anche il modo di accedere a le proprietà di un oggetto attraverso la dot notation quindi movie.titolo movie.title e di nuovo se la parola chiave avesse degli spazi e quant'altro non si può usare la dot notation perché deve essere un qualcosa che sarebbe valida come variabile quindi per esempio nel nostro esempio qui potremmo a un certo punto dire che ecco possiamo sicuramente fare console.log di movie.title e questo è l'equivalente della riga sopra in quanto title e non ha caratteri particolari ma possiamo anche come vi dicevo a un certo punto movie aggiungere una proprietà che era il registro di Titanic come si scrive ah Cameron ok Cameron mettiamo solo il cognome e aggiungerlo così o ovviamente possiamo anche aggiungerlo con la notazione con le parentesi quadre e non c'è differenza tra queste due di nuovo se se la chiave usa caratteri validi e e allo stesso modo potremmo cancellare una chiave con la parola chiave delete che una parola chiave non è un metodo semplicemente delete e per esempio potremmo cancellare movie punto genere e se noi stampiamo a questo punto l'intero film vediamo che l'inizio aveva titolo genere e durata poi abbiamo stampato due volte Titanic riga 10 riga 11 poi abbiamo aggiunto il regista poi abbiamo cancellato il genere e quindi l'ultima volta che stampiamo l'oggetto abbiamo titolo Titanic durata 200 e regista Cameron e il genere l'abbiamo perso per strada quindi modifica al volo di oggetti che di nuovo analoga a quello che potete immaginare in altri linguaggi con i dizionari questo è quello che vi ho appena detto se c'è uno spazio un carattere speciale non si può usare le altre notazioni come la dot notation perché book.my spazio.title non sarebbe considerato come un carattere un valore valido perché c'è uno spazio in mezzo e quindi bisogna per forza utilizzare la le le parentesi quadre e vabbè l'oggetto è un array associativo quindi solo che non si accede all'array con dei numeri gli id gli indici ma si accede attraverso il nome della chiave come abbiamo visto adesso e si possono anche ovviamente creare al volo delle chiavi per esempio utilizzando delle variabili e ovviamente nel caso lo facciate dovete fare particolare attenzione a non avere questi casi qui qual è la differenza tra questi due casi? cosa fa il primo? il primo prenderà immaginate che invece di book ci sia movie cos'è movie di aperte virgolette title è il valore della proprietà title se invece lo scrivessimo senza virgolette dovrebbe esserci una variabile che si chiama title quindi questo è da fare attenzione e non c'è l'analogo nella dot notation quindi se noi scriviamo movie di title intendiamo la proprietà che si chiama title che è la stessa cosa di movie.title come abbiamo visto prima se noi scriviamo scrivessimo movie di title questo title qui se noi provassimo a eseguirlo mi darebbe un errore dicendomi che title non è definito perché title non è definito perché questo scritto così è una variabile e noi abbiamo una variabile che si chiama title nel nostro programma si o no no e quindi non può accedere alla variabile title del nostro programma se noi definissimo un const title uguale director cosa ci stamperebbe riga 22 cosa ci stamperebbe riga 22 cameron quindi questo è qualcosa ovviamente che non ha tanto senso avere una variabile che si chiama titolo che al suo interno ha director che non c'entra niente col titolo però magari è il titolo lavorativo in questo senso e quindi se c'è anche il titolo il titolo del film può creare confusione questo è lecito si possono usare variabili per indicizzare per accedere o creare si può anche fare cose tipo titolo più uno se uno volesse quindi si può anche usare delle espressioni e poi questo è ovviamente il valore che viene calcolato da javascript non è la stringa che si considera però le chiavi devono essere sempre stringhe ok? se una proprietà non è definita si accede alla proprietà si ottiene undefined in quanto non è definita e si può controllare con un if per esempio se esiste quindi se è definita allora andiamo avanti la possiamo accedere altrimenti no quindi stessa cosa di nuovo riuso l'esempio di length perché è la stessa cosa lì uno può controllare se la proprietà è definita e puoi accedervi se non controllo che è definita ci provo a accedere ottengo undefined e quindi undefined meno undefined o undefined qualche operazione mi dà o nota number o undefined o qualche altro valore in quanto undefined è un tipo esplicito e particolare e abbiamo già visto l'altra volta che si può iterare su gli oggetti di un sugli oggetti con il for in invece che il for off e quindi per esempio se noi volessimo qui iterare for sulle proprietà const prop in movie potremmo stampare tutte le proprietà quindi console.log prop se volessimo stampare le proprietà e il suo valore come potremmo modificare questa console.log dentro aggiungere un movie con la con la notazione quadre però magari scriviamolo in una stringa tipo nome della proprietà è valore oppure nome della proprietà uguale valore o due punti valore scriviamolo in maniera non brutale su due righe separate come lo scriveremmo? così facciamo anche ripasso sulle stringhe come si fa interpolazione di stringhe? più è concatenazione di stringhe questa interpolazione di stringhe col backtick quindi dollaro che su windows è alt 0.96 mi sembra a memoria prop due punti dollaro movie di prop perché prop è una variabile e quindi prenderà qualunque valore abbia al suo interno oppure possiamo scrivere is quindi title is titanic cosa abbiamo? duration is 200 non minuti director is camera e quindi se noi di nuovo eseguiamo questo e salviamo prima di eseguire vediamo che title is titanic duration is 200 e quindi c'è per ogni chiave la sua proprietà sì perché è una variabile e come in questo caso qua questa è una variabile prop il cui valore cambia ogni volta che c'è una proprietà diversa nel film quindi una volta varrà titolo una volta varrà se lo mettessimo come stringa cosa verrebbe? non c'è quindi non errore undefined perché non c'è e quando la proprietà non c'è è undefined perché in questo caso non sarebbe più la variabile sarebbe il nome vero della proprietà che giustamente movie non ha una proprietà che si chiama prop ok quindi qui riusciamo a stampare iterando sulla variabile se volessimo tutte le chiavi tutti i nomi delle proprietà possiamo utilizzare object.keys e passare l'oggetto questo ci dà nel caso di movie title duration e director e se volessimo invece le copie direttamente chiave valore possiamo usare object.entries e passando l'oggetto come parametro in questo caso otteniamo titolo titanic genere drammatico eccetera 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 copia copia degli oggetti torniamo di qua se noi volessimo creare una copia dell'oggetto titanic quindi chiamamolo const titanic non possiamo fare così giusto? perché questa è una copia o no? sì questa come si chiama questo operatore? assegnazione quindi come dice il nome non è una copia è un'assegnazione giusto? quindi sì sono due puntatori allo stesso struttura dati quindi non stiamo copiando davvero stiamo solo riferendoci alle stesse informazioni quindi cambiando se noi cancelliamo una proprietà a riga 29 se noi cancellassimo una proprietà da titanic o aggiungessimo una proprietà da titanic la troveremo anche in movie quindi non è una copia come copiamo oggetti? gli oggetti possiamo copiarli con un una funzione che deriva da object quindi è object maiuscolo punto assign che non serve solo per copiare oggetti ma anche per unire oggetti diversi tra di loro è un metodo abbastanza complicato abbastanza complicato come funzionamento come parametri è molto flessibile fa molte cose in un certo senso object punto assign ci permette di copiare un oggetto in questo modo quindi object punto assign primo parametro oggetto vuoto secondo parametro l'oggetto da copiare questo ci crea una shallow copy esattamente come abbiamo visto per l'array l'altra volta dell'oggetto movie quindi se noi qui facessimo console.log titanic vedremmo lo stesso oggetto con le stesse proprietà di movie dopo le varie cancellazioni e modifiche che abbiamo fatto e questo è effettivamente un altro oggetto una copia quindi se noi andassimo a modificare titanic poi non vedremmo la la nuova versione non vedremo le modifiche nell'altro nell'altro cosa fa assign assign viene principamente utilizzato per la copia ma come vi dicevo non solo assign come il nome dice assegna tutte le proprietà da un oggetto sorgente nel nostro caso movie a un oggetto target e restituisce l'oggetto target come risultato quindi questo target diventa poi new object perché va bene per la copia perché prende source tutte le proprietà di source e le mette se l'oggetto target è vuoto le mette all'interno dell'oggetto target quindi nel nostro caso prendiamo tutte le proprietà di movie e le assegniamo le mettiamo dentro l'oggetto target dato che l'oggetto target è vuoto otteniamo un oggetto che è identico all'oggetto movie questo però vale anche se noi è una shallow copy vale anche se noi volessimo unire delle proprietà unire oggetti o aggiungere proprietà a un oggetto sì sì le proprietà sono univoche come string quindi se ci sono due proprietà con lo stesso nome non rimangono entrambe e credo che ci sia non c'è scritto però possiamo provarlo quindi questo è la copia poi ci metto qualche copia di oggetti proviamo ad aggiungere una proprietà a un oggetto allora noi abbiamo visto che possiamo scrivere movie.qualcosa uguale e abbiamo aggiunto la proprietà ma possiamo anche farlo con assign quindi per esempio potremmo dire object punto assign movie e per esempio possiamo aggiungere la proprietà budget chi è che guarda su google quanto è costato Titanic o mettiamo un numero a caso 200 milioni di dollari io ero economico avevo scritto solo uno quindi adesso questa è una sola proprietà quindi farlo con l'assign è fin troppo fin troppo lavoro perché basterebbe scrivere movie.budget uguale come abbiamo fatto per il director ma vedete che comunque funziona allo stesso modo e aggiunge la proprietà budget all'oggetto movie esattamente come fosse scritto movie.budget uguale qualcosa 200 milioni di dollari quindi questi sono equivalenti a quello che abbiamo fatto prima ok quindi possiamo aggiungere una proprietà possiamo anche aggiungere molteplici proprietà se volessimo rifarmi la domanda due puntatori tu hai movie e titanic o non lo sai cosa hai fatto e vuoi a un certo punto capire se è una copia oppure no puoi farlo puoi farlo ieri abbiamo detto no ieri martedì abbiamo detto che un oggetto è uguale a se stesso solo quando è lo stesso identico oggetto giusto? quindi quello dovrebbe bastarti per fare questa verifica ok l'assign funziona anche per unire proprietà quindi la versione semplice dell'assign è target source e prendo tutto quello che c'è in source lo metto in target e restituisco target ma anche può essere usato per unire più unire degli oggetti e restituire un nuovo oggetto a sua volta quindi per esempio noi potremmo dire che abbiamo un improved movie quindi una copia di movie ma migliorata in cui abbiamo al suo interno in cui vogliamo mettere due oggetti uniti in cui restituire un nuovo oggetto quindi restituire un nuovo oggetto vuol dire che il target deve essere un oggetto vuoto perché è un nuovo oggetto è una copia e vogliamo unire per esempio vedete la la definizione dice di assign dice che il target deve essere un oggetto e poi le sources possono essere molteplici e c'è l'operatore di spread per dire questo qualunque cosa sia sono tante di queste tante di queste quindi potremmo unire movie con facciamo un oggetto al volo con cast due punti qualcosa non potremmo scrivere tutto il cast del film se no domani siamo ancora qui e e quindi questo improved movie sarà l'unione tra movie e cast in un nuovo oggetto quindi sarà cast e movie finiranno entrambi in un nuovo oggetto sempre con se c'è la stessa chiave non ci sono due chiavi uguali e quindi questo improved movie sarà 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 una copia di movie con dentro tutto con i puntini di cast praticamente in un nuovo oggetto qui vedete che c'è esattamente tutto quello che c'era in movie compreso l'aggiunta del budget più il cast e se noi stampassimo Titanic dovremmo trovarci che invece Titanic essendo stata una copia continua ad avere solo i primi tre le prime tre proprietà che avevamo definito e con le varie cancellazioni aggiunte che abbiamo fatto ma non il budget non il cast perché quelli sono stati aggiunti dopo a movie o meglio il budget a movie e il cast a questa versione migliorata di movie quindi più completa di movie ok quindi assign serve principalmente per unire oggetti tra di loro o per aggiungere proprietà a un oggetto esistente ma può essere usato se il primo parametro è un oggetto vuoto per creare una copia perché verrà istituito appunto l'oggetto appena creato quindi l'oggetto vuoto con le proprietà al suo interno in S9 è stato aggiunto un altro modo per copiare gli oggetti che è simile al modo che abbiamo visto con l'array quindi lo stesso spread operator che da S9 quindi dalla versione 2018 di javascript permette anche di fare esattamente quello che fa assign ma senza scrivere object.assign quindi volessimo creare una copia di movie potremmo scrivere const titanic uguale aperta graffa tre puntini movie chiusa graffa questo è noi io martedì vi ho detto che noi usiamo come riferimento S6 quindi la versione del 2015 questo ovviamente è S9 quindi per altre tre versioni non è stata aggiunta è però ormai abbastanza implementata nei vari nei vari sistemi quindi volendo si può utilizzare anche lo spread operator quindi quindi const titanic titanic2 potremmo scrivere puntini 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 movie e in questo caso faremo una una copia esattamente come abbiamo fatto a qua a riga 29 quindi riga 39 e riga 29 sono essenzialmente la stessa cosa fatta in due modi diversi questo è come riga 29 ok quindi oggetti creati così ci permettono appunto di aggiungere rimuovere proprietà e la proprietà può avere qualunque suo valore e si possono unire oggetti in questo modo possiamo anche controllare se una proprietà esiste non solo con if eccetera per vedere se attualmente è un valore ma anche con la proprietà in che funziona solo con gli oggetti non funziona con gli array anche se l'array è un oggetto questa è una proprietà che sugli array non funziona quindi posso verificare se la proprietà author in book e mi restituisce vero se esiste una proprietà che si chiama in quel modo all'interno di quell'oggetto o falso se non è così e questo vi dicevo funziona solo con con gli oggetti da non usare con gli array come si crea un oggetto lo possiamo creare nel modo che abbiamo usato in quell'esempio quindi con le parentesi graffe come creeremo un dizionario che è il modo preferito standard esiste anche un new object in cui creare un oggetto che è l'equivalente di queste parentesi graffe vuote però ovviamente scrivere new object aperto e chiuso a parentesi è più lungo che scrivere aperto e chiuso a parentesi graffe oppure e qui entriamo nelle funzioni si può creare un oggetto con una con una funzione costruttrice che non chiamo costruttore ma è l'equivalente in un certo senso di un costruttore di un oggetto in altri linguaggi di programmazione e per farlo dobbiamo però andare prima a vedere le funzioni quindi possiamo creare un oggetto così come l'abbiamo creato oppure possiamo creare una funzione che chiameremo con new nome della funzione quindi in maniera più analoga a come abbiamo come siamo abituati in altri linguaggi di programmazione le stesse cose valgono anche se l'oggetto viene creato in quel modo le proprietà si possono aggiungere cancellare modificare in ogni momento assign serve per copiare o assegnare proprietà eccetera è solo un modo diverso più strutturato se volete di creare un oggetto o di creare un oggetto che abbia dei valori diversi al suo interno perché questo oggetto movie non è davvero un oggetto che rappresenta i tipi di film è un oggetto che rappresenta un film che è Titanic con una funzione costruttrice quindi con un costruttore potremmo creare invece una funzione che mi crea dei film delle cose di tipo movie quindi posso creare un film che ha le proprietà di Titanic ma un film che ha anche le proprietà di Inception per prendere un lato fin lungo per esempio Interstellar che è ancora più lungo ok? quindi quelle sono funzioni costruttrici ma per parlare di quelle bisogna parlare di funzioni allora come vi dicevo martedì le funzioni sono oggetti le funzioni delimitano una parte di codice con uno scope privato quindi interno alla funzione le funzioni come negli altri linguaggi di programmazione possono accettare parametri ne abbiamo già usati parecchi e ritornano però un solo oggetto come in realtà è comune su altre funzioni questo oggetto può anche essere un array o un altro oggetto però una sola cosa come abbiamo visto col sort le funzioni essendo oggetti hanno delle caratteristiche che sono che le funzioni possono essere assegnate a una variabile che sono che le funzioni possono essere passate come argomento a un'altra funzione come nel caso di sort e una funzione può tornare come valore di ritorno un'altra funzione e tutto questo è lecito in javascript non tutto questo è comune nella programmazione diciamo quotidiana ma è lecito e il passaggio di una funzione come argomento è molto molto tipico come abbiamo visto dal sort ci sono tre modi di dichiarare una funzione in javascript il primo è il modo classico parola chiave function nome della funzione aperta parentesi parametri 1, 2, 3 20.000 aperte graffe corpo della funzione quindi qui è un esempio di una funzione che viene dichiarata e poi eseguita come qualunque altra funzione che potete aver incontrato finora i parametri sono in tutti i modi in cui viene definita una funzione una lista separata di elementi da virgole possono avere un valore di default come in questo caso quindi parametro uguale qualcosa a quel parametro se non è passato ha un valore di default i parametri che non vengono passati quando una funzione viene chiamata assumono il valore di undefined quindi se manca un parametro non dà errore semplicemente prende il valore undefined e si può ovviamente controllare confrontando se il parametro è undefined oppure no e assegnare un valore a scelta altrimenti le funzioni possono anche avere un numero variabile di parametri attraverso lo stesso operatore dei tre puntini che abbiamo visto prima che in questo caso però non si chiama spread ma si chiama arresto per lo stesso tre puntini di prima questo vuol dire che se viene utilizzato con quella sintassi nome della funzione aperta parentesi parametro 1 parametro 2 parametro 3 virgola puntini 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 altro parametro questo puntini 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 altro parametro deve innanzitutto essere l'ultimo parametro non può apparire a metà di una funzione e prende tutti gli altri argomenti che vengono passati a quella funzione e lì mette in un array quindi se io passo in questo caso 2 4 5 sono tutti depositati in un array che si chiama ar che come primo parametro avrà 2 come secondo parametro avrà 4 come terzo parametro avrà 5 quindi un modo per dire non so bene quanti parametri ho potrei averne 2 potrei averne 3 potrei averne molteplici se volessi fare una somma potrebbe aver senso una somma infinita in un certo senso allora metto tutti i valori da sommare all'interno di un unico parametro indicato come rest che a questo punto prende in un array tutti i valori e quindi ciclando su quest'array posso fare le somme le moltiplicazioni quant'altro il secondo modo per dichiarare le funzioni e poi è sempre una funzione è quella di usare una function expression che può essere con nome o senza nome e una function expression cosa vuol dire? vuol dire che io definisco una variabile in ogni caso a cui assegno una funzione e questa funzione può avere un nome oppure può non averlo tipicamente non ce l'ha perché si usa ci si può riferire direttamente al nome della variabile quindi non serve necessariamente indicare un altro nome però è possibile e come si scrive nelle function expression c'è variabile uguale funzione nome o meno aperta parentesi parametri parametri funzionano esattamente come per le funzioni classiche e sono un modo diverso di scrivere funzioni ma alla fine sono sempre funzioni in javascript sono sempre la stessa cosa in javascript e quindi sono sempre lo stesso tipo di oggetto è solo un altro modo di una tasse in tassi per creare funzioni e vedete che se io voglio creare una function expression come in questo caso in questo caso è con nome perché la funzione si chiama c io in ogni caso quando vado poi a chiamare la funzione a eseguire la funzione uso il nome della variabile e passo i parametri della funzione che riceve al suo interno questo motivo per cui spesso le named le named function expression non si usano si usano direttamente le function expression perché tanto c'è comunque la variabile al suo interno prima che si può richiamare in quanto è una variabile giusto per impostare un po' di terminologia quando che in parte una già la sapete quando una variabile quando una funzione è all'interno di una proprietà di un oggetto questa diventa un metodo quindi questo se fosse dentro un oggetto sarebbe il metodo cube sarebbe la proprietà e function c di x sarebbe l'attuale metodo della funzione sarebbe la proprietà sarebbe il metodo di quella funzione quando è passata come parametro a una funzione come per esempio nel caso di sort si chiama callback e vedremo settimana prossima che le callback possono essere sincrone o asincrone nel caso di sort era sincrona era sincrona quindi quando parliamo di callback intendiamo una funzione passata come parametro a una funzione quando parliamo di metodo è un metodo quindi una funzione associata a una proprietà di un oggetto e l'ultimo metodo di dichiarare una funzione che è quello che abbiamo visto prima è le arrow function che si dichiarano sempre come variabile uguale questa volta non c'è più scritto function ci sono direttamente i parametri poi c'è la freccia aperta graffa è il corpo della funzione quindi terzo modo di dichiarare le funzioni le arrow function sono molte utilizzate come callback perché sono funzioni in un certo senso usa e getta la creo la uso e poi non devo più usarla perché l'ho usata tipo quella che abbiamo fatto nel sort serviva solo nel sort non serve nel resto del programma una funzione che faccia a-b come nel caso prima quindi la uso in quel momento una volta che finito il sort non mi serve più e non ho più accesso a quella funzione e di nuovo le arrow function sono praticamente sempre funzioni come nel caso precedente le arrow function hanno alcune modalità un po' diverse per gestire i parametri vale tutto quello che abbiamo detto finora in termini di default e in termini di rest ma un arrow function senza parametri deve avere le parentesi tonde obbligatoriamente se voglio una funzione in cui non passo nessun parametro parentesi tonde se ho un solo parametro posso scegliere se avere o non avere le parentesi tonde è equivalente se ho più di un parametro devo obbligatoriamente avere le parentesi tonde come una funzione normale allo stesso modo se io voglio tornare qualcosa alla arrow function devo usare la ray turn come per qualunque altra funzione e sempre un solo valore posso tornare come per tutte le funzioni in javascript posso ovviamente tornare oggetti o array l'importante è tornare un oggetto o un array e poi posso come abbiamo visto martedì scompattare il risultato di un array in varie proprietà in varie variabili da utilizzare indipendentemente le arrow function e questo vale solo per le arrow function se c'è solo una riga se c'è solo un'istruzione possono omettere le parentesi graffe e il return perché prendono un return implicito quindi se l'unica cosa che fa nella funzione deve essere ritornata si può mettere sia parentesi graffa che return che è quello che abbiamo fatto nel sort nel sort abbiamo scritto a virgola b freccia a meno b non abbiamo messo parentesi graffe non abbiamo messo return ma ovviamente intendevamo ritorna il risultato dell'operazione a meno b quindi dove è finito questo qui questo è l'equivalente di scrivere aperta graffa return a meno b punto e virgola chiusa graffa ma dato che c'è solo una riga e quello che è nella prima riga va ritornato si può omettere tutta quella parte non è sbagliato scriverlo però si può omettere se invece la prima riga l'unica istruzione non è da ritornare o se avessimo più cose ovviamente ci vanno le parentesi graffe e ci va tutto il resto quindi solo in questo caso si può evitare di avere una di avere le parentesi graffe il return e il punto e virgola eccetera le funzioni si possono anche innestare una dentro l'altra quindi all'interno di una funzione io definisco un'altra funzione quindi una funzione che chiamo un'altra che a suo interno definisce un'altra funzione e poi ritorna qualcosa dopo aver operato l'altra funzione come in questo caso qua come in questi due casi questo è fatto con l'arrow function e questo è fatto con una funzione normale viene preferito l'arrow function però praticamente cosa faccio? per calcolare square crea una funzione che mi calcola il valore moltiplicato per due qualunque esso sia e poi lo chiamo nella funzione contenitore e la funzione interna esiste solo come scope solo la funzione esterna che lo contiene e quindi al di fuori di questo ipotenusa la funzione square non può essere chiamata e invece la funzione interna può accedere alle variabili definite fuori quindi la funzione interna quindi square può accedere alle variabili a e b di ipotenusa se servisse ma al di fuori di ipotenusa square non è mai esistita sia se fosse definito come arrow function sia se fosse definita con un altro tipo di definizione di funzioni c'è una proprietà di javascript che si chiama closure giusto per conoscenza perché credo poi non lo useremo in pratica quasi mai se non mai è una funzionalità di un linguaggio e javascript ce l'ha questa funzionalità in cui una funzione innestata quindi interna eseguita dopo l'esecuzione di una funzione esterna può anche essere chiamata al di fuori dello scopo della funzione questa è una definizione come dice il titolo un po' criptica però guardiamolo con questo esempio guardiamo cosa fa questo esempio questo esempio definisce una funzione che si chiama greeter che accetta un parametro che è in name e poi al suo interno definisce una funzione hello che fa semplicemente hello più name quindi se io se noi ignoriamo per un attimo questa riga ignoriamola per un attimo facciamo finta che non esista questa funzione cosa fa prende il nome Luigi e chiamerebbe un'altra funzione che prende ciao e ci aggiunge Luigi in fondo in pratica non fa questo ma in pratica questa funzione greeter ritorna la funzione elo ma non esegue la funzione elo vedete non ci sono le parentesi tonde non esegue la funzione elo non ritorna l'esecuzione della funzione elo ritorna la funzione elo ritorna il puntatore alla funzione elo cosa vuol dire? vuol dire che se io chiamo la funzione greeter questo con greeter con questo tom e jerry questo hello tom e questo hello jerry sono entrambi riferimenti a questa funzione elo funzione che era stata definita dentro greeter quindi in teoria lì fuori non dovrebbe più esserci però dato che è stata tornata si può ancora utilizzare e quindi se facciamo console.log di hello tom questa volta chiamando la funzione con le parentesi tonde quel console.log ci stamperà hello spazio tom e l'altro hello jerry ci stamperà hello spazio jerry questo è il concetto di closure il fatto cioè che una funzione in questo caso questa funzione che ha come scope interno a greeter e quindi non dovrebbe essere più utilizzabile visibile al di fuori di greeter una volta che greeter ha finito il suo compito non potrebbe più essere utilizzabile se è tornata in questo modo ci permette di essere utilizzata anche se greeter non esiste più come funzione perché ha già svolto il suo scopo quindi ed è anche un esempio di quello che vi dicevo prima che le funzioni essendo oggetti possono essere ritornate da un'altra funzione questa è una funzione ritornata da una funzione ritorniamo hello come funzione non come esecuzione di hello e questa è tutta la praticamente spiegazione che vi ho appena detto a voce con le closure si possono anche emulare degli oggetti ma è proprio l'ufficio complicazioni cose semplici e in javascript esistono anche delle funzioni che useremo raramente ma di nuovo per completezza che si chiamano ife che sono funzioni immediatamente invocate e vedete cosa sono sono funzioni normalissime funzioni che vengono definite all'interno di due parentesi tonde e poi vengono immediatamente chiamate quindi è un altro modo di fare una funzione in un certo senso usa getta creo una funzione e la chiamo subito senza scrivere function a e poi a aperti chiusa parentesi ma direttamente la creo e la eseguo e queste sono funzioni che si chiamano una volta e poi non si possono più utilizzare in passato in futuro vengono chiamate e eseguite come se facessero un conto e basta vanno specificati qui e qui devono esserci ovviamente dei parametri sì la parentesi tonda è la parentesi tonda che esigue che chiama la funzione quindi se la funzione interna ha dei parametri quei parametri vanno specificati nella parentesi tonda queste sono funzioni immediatamente invocate perché vengono invocate in quel momento e poi vengono danno un risultato che in questo secondo caso viene memorizzato nella variabile num e poi non si accede più a questa funzione e queste funzioni sono spesso o delle arrow function o delle function expression senza nome in quanto non serve portarsele avanti e con anche le ife si possono immolare degli oggetti e l'ultima cosa che vediamo sono le construction function che sono funzioni esattamente come quella che hanno visto con due differenze una di funzionamento e una semantica quella semantica è che le function construction iniziano con la lettera maiuscola il nome inizia con la lettera maiuscola e tipicamente si definiscono come funzioni classiche e la seconda differenza è che vengono utilizzate per creare degli oggetti con la parola chiave new quindi agiscono da costruttore e poi ci sono le date che abbiamo detto non facciamo oggi ma facciamo cinque minuti un esempio di questa di una funzione costruttore per i film di prima come scriviamo una funzione costruttore per i movie function movie maiuscolo parametri title si c'era genere duration e va bene e director se volessimo quindi è una funzione che definiamo come andiamo a definire i valori interni di questa funzione come in un altro linguaggio di programmazione quindi this.title uguale title this.genre ecc e this.duration uguale duration e this.director uguale director e a quel punto se volessi crearlo il film titanic scriviamo new movie e passiamo le proprietà titanic drama 200 cameron se volessimo definire un metodo all'interno di questa function construction come facciamo così abbiamo anche un esempio di questo vogliamo definire un metodo che è ci dà un booleano che ci dice se il film è lungo oppure no e quindi ci dice vero o falso in base alla durata quindi non è un altro parametro perché il parametro durata ce l'abbiamo già scusate is long è una proprietà questo deve essere un metodo quindi cosa scriviamo qui? facciamola come arrow function che facciamo prima quindi parenzi tonde perché non ha parametro in questo caso non ha parametro perché duration non riusciamo ad accederci direttamente e e quindi this.duration 120 quindi se la durata è più di 120 restituirà true se la durata è minore di 120 restituirà false questo is long quindi in questo caso 200 quindi restituirà true come lo chiamiamo lo chiamiamo sull'istanza quindi su titanic punto is long aperta e chiusa parentesi perché vogliamo chiamarla la funzione se no ci teniamo solo riferimento della funzione e quindi se lo eseguiamo vediamo che in questo caso ci restituisce true perché la duration che abbiamo creato è 200 e 200 maggiore di 120 sì di definizione una funzione all'interno della funzione di tutti i siti di movie normale fanno più il nome è solo una funzione che può utilizzare all'interno di movie e non all'interno sì perché vale la stessa cosa che mi hai detto prima una funzione interna ha come scope quello interno a meno che tu non lo passi come closure quindi non fai un return della funzione interna se sono nello scope sì quindi sì finché rimangono nello scope quindi se non c'è qualcosa che varia lo scope ne fammelo correggere la risposta ne lo vediamo dipende da come definisci la funzione perché nel caso dell'arrow function solo nel caso dell'arrow function ci sono regole un po' diverse però diciamo in generale sì con un dipende per un arrow function ma non ne parliamo adesso essendo gli 11 e 25 ma ci ci torniamo settimana prossima parliamo un attimo di date parliamo di callback quindi ancora funzioni ma anche sulla parte asincrona che è un pochino più complicata e poi giovedì prossimo avrete un laboratorio su queste cose queste più le cose che vedremo martedì e quindi avrete modo ancora di sperimentare con scope e quant'altro se avete domande sono ancora qua per 5 minuti altrimenti buon resto della settimana e ci vediamo martedì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.